Musica E bella a tutti ragazzi qui è Beazzu che vi parla E oggi siamo sui giochi di smartphone Siamo su Crossy Road Iniziamo Non dobbiamo farci investire E neanche andare addosso alle cose Regalo gratis Beh Che cos'è? Wow con cento dei soldi Mi stavo uccidendo le orecchie No 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 io voglio giocare con la gallina No Gandalf Gandalf sei tu? Non ho ancora so Questo Cioè non lo so Oh mamma mia Un po' tantino psichedelico Vediamo quanto riusciamo ad arrivare a distante Ma quello è il fiume No Sono rimasto investito Dalle macchine C'è un bel giochino ma è per smartphone Più che per computer E non è neanche semplice come sembra Ok Vai 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 Questa sarà la copertina del video Proprio No bellissima la voglio salvare C'è in qualche modo la dovrò salvare perché Una cosa fantastica Allora Questo gioco Ho sbagliato parte lo so Questo gioco è un po' stranino Ma questa è la versione pacman no? Quindi tipo in fondo arrivano i numeri No I numeri ti uccidono Ok Non esisteva Non esisteva Quando ho attraversato la strada Non esisteva Secondo me Prima o poi Entro la fine del video Ce la farò No Pensavo di farcela Morto Morto Ce la farò Ok passa Stavolta stiamo previdenti Che voglio fare il record Vai avanti 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 Ok Ma pensavo prendesse il tronco che c'era a fianco La do io la facciata sulla portiera Tra un po' Spacchettiamo un altro regalo E altri 100 coin E andiamo a comprarci un nuovo personaggio Dai Dai E dai Personaggio è Lucky cat Il gatto fortunato Ok Gatto fortunato col corno Non l'hanno appena investito Non è fortunato per niente No ma perché Niente Cioè sto gioco ti fa venire un esaurimento nervoso Prima o poi E ho capito Non devi cambiare direzione Devi soltanto andare dritto Al massimo stopparti un po' Vedi? Se cambi direzione cosa succede? Non va bene Non bisogna mai cambiare direzione Bisogna sempre andare dritti Chi va dritto va sano e va lontano E' il nuovo proverbio Se sei un gatto fortunato ti investiranno 5 volte su 10 Cioè ti investiranno 10 volte su 5 Volevo dire Colpito la macchina al posto che è il treno Non è possibile Questo altro che gatto fortunato Il gatto sfortunato Cioè l'unica cosa che fa essere investito Poi ogni tanto passa quello lì con Quello lì era il taxi Tuvster Era il tizio no Neanche così Proprio quello che passa con la musica Fuori in paese Con il finestrino abbassato Soltanto che tu non la stai ascoltando Non è vero Mi verrebbe da riprendere il pezzo del video che In cui non sono realmente Non mi ha investito Ero già davanti Il massimo mi può aver investito la coda Ma non è che posso essere morto perché mi ha investito la coda Siccome è una cosa molto realizzabile questo videogioco da fare C'è gente che fa tipo i record grandi Quanto non so cosa fa Dei numeri assurdi su sto gioco Cioè ti sembra strano che te riesci ad arrivare a Adesso voglio vedere quanto arriva a questa partita Ero morto 51 Wallach Qua la salvo Non si può salvare No davvero ragazzi Non si può salvare Se non mi interessa Io voglio giocare col gatto fortunato Perfetto Moriamo più non posso Top è 57 Giusto se non sbaglio 57 Il top è 57 Puntiamo a battere il 57 Niente 6 E' perfetto Proprio una cosa perfetta Quando si dice Tentiamo di andare sopra il 57 Fai 10 Capisci che non ce la farai mai Comunque per oggi è tutto E ci vediamo alla prossima Ciao